Hmm, andiamo a vedere cosa c'è di nuovo nel canale. Eh? Porca tra... Beh ragazzi, come avete capito dalla piccola intro che avete visto poco fa, abbiamo finalmente raggiunto i 6.000 iscritti, wow, davvero una cosa fantastica. Sembrano pochi in fronte a quelli di altri youtuber molto più famosi, ma sicuramente non me ne può fregare di meno. È comunque una cifra abbastanza sostanziosa, a meno per quanto mi riguarda. So benissimo, tra l'altro, che di questi 6.000 sarà 1.000, 1.500 esagerando, anche 2.000 proprio esagerando al massimo guardano tutti i miei video. Però almeno è comunque un bel numero, che significa che i video che faccio piacciono, divertono, insomma... Sto simpatico a qualcuno. Mi fa piangere a pensarci. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora per questi 6.000 iscritti. Non avevo fatto un video per i 5.000 perché semplicemente non avevo idea e non mi sembrava neanche il caso di farlo. Però adesso, cavolo, 6.000 iniziano ad arrivare quasi vicino ai 10.000. Non ci arriverò mai, per l'amor di Dio. Ma la speranza è l'ultimo a morire, quindi speriamo bene di riuscirci. E quindi niente, questo video finisce qui, solo un piccolissimo video per ringraziarvi per questi 6.000 iscritti. Ne approfitto per dirvi una cosa, ovvero che questa settimana, quindi come è successo lunedì, anche questo venerdì, non ci sarà alcun video perché sto avendo dei problemi con il peso dei video che ho registrato. Infatti li ho registrati alcuni con action, però non sono molto leggeri anche questi, quindi mi tocca convertirli per diminuire il peso. Quindi settimana prossima probabilmente ci sarà un nuovo video, però perlomeno di anche questa settimana come la scorsa, mi spiace, niente video. E quindi niente, concludiamo qui, grazie ancora per questi 6.000 iscritti, ci vediamo al prossimo video e quindi fino ad allora, Amusvera!